Musica Ciao ragazzi e oggi vediamo cosa sono le mode delle armi e come equipaggiarle intanto dovete andare nel menu e andare su maestria qua scegliete l'arma che vi interessa, in questo caso io sceglierò queste e dovete fare ricompense come vedete qua trovate tutte le vostre arme io sceglierò le lame a catena e qui al livello 6 otterrete la prima mode come dovete vedere questa qui, la catena leggera quindi ogni tot livelli otterrete le mode equipaggieremo quella che abbiamo ottenuto quindi andiamo sempre nel nostro menu andiamo in equipaggiamento selezioniamo la nostra arma che ci interessa e qua nella prima, scusate, nella seconda cella nel secondo buco, nella seconda voce troverete la catena leggera quindi è già stata inserita infatti eccola qui la andiamo a mettere è già stata messa e quindi l'abbiamo messa ricordatevi di condividerlo di mettermi un mi piace ed iscriviti al canale se ancora non l'avete fatto ciao e alla prossima ciao